Oggi andiamo in aereo. Mi sa che prendiamo quello là. E' l'ultra leggero? Che modello è? E' l'ultra leggero, due posti, motore. Lo zaino lo lascio giù o lo metto dentro? Meglio che lo lascio qua. Sei già salito, te ci manqueri. No, su questo in particolare no. Compa della benzina. Compa d'emergenza che attaccheremo in decollo e in atterraggio. Beacon per far vedere che ci stiamo accendendo. Elica! Compa. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi... Mi hanno dato pilota per un giorno. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Grazie a tutti.